Oggi lunedì 10 febbraio 2020, siamo su fiume Adige, a sud della mia città di Rovereto, Trentino, stiamo vedendo due anatre, germani reali, due maschi. Panoramiche invernali, fiume Adige, una bellissima acqua limpida, con lo smeraldo, sullo sfondo le rocce, nella sponda destra del fiume Adige, i liane e i tre germani reali si fanno portare dalla corrente e con queste immagini le rocce che si specchiano nell'acqua del fiume Adige sono alla fine del video. Fiume Adige, Trentino, a Tavallagarina.